Don Roberto, due appuntamenti importanti che hanno al centro il tema della vita. Di che cosa si tratta? Si tratta della veglia che faremo in preparazione il 2 di febbraio a Mazzetta, in preparazione della giornata per la vita che invece sarà domenica 4 di febbraio. Due appuntamenti importanti, uno appunto la veglia di preghiera con il nostro Vescovo, il secondo è la domenica sera una santa messa in cui si rinnoverà l'invito così alla vita e all'amore tramite la benedizione dell'anniversario di matrimonio delle coppie di sposi e anche delle mamme in dolce attesa. Due momenti di preghiera insieme al nostro Vescovo, vogliamo ricordare appunto dove e come si svolgeranno e a che ora Alberto? Allora, la veglia di preghiera sarà venerdì 2 febbraio alle 21 alla chiesa di Mazzetta, sarà nostro Vescovo e ci saranno delle testimonianze. Domenica invece 4 febbraio alle 18 presso il santuario a Gaggiola dai frati ci sarà una messa, anche lì sarà solo una messa, sono invitate tutte le coppie di sposi e le mamme che si è in attesa di un figlio e riceveranno tutti la benedizione e anche rinnovare gli sposi e le promesse matrimoniali che hanno fatto. Sono invitati principalmente quelli che fanno un anniversario particolare in questo anno, quindi un anno, 10, 20, 25, 30, 40, tutti i vestiti. Ma comunque può venire chiunque, insomma, i sposi perché... Roberto, sarebbe davvero una occasione da non perdere, quindi ti chiediamo di fare un accorato appello a partecipare a questo... Certo, l'invito è aperto a tutti, cercate di essere presenti perché sono occasioni importanti, belle, che danno veramente anche uno spunto per riflettere insieme e conoscere delle realtà anche importanti della nostra zona.